Visitiamo nel modo più veloce possibile il monumento magnificente, uno degli avamposti dei sette e anche il santuario e vi faccio vedere come fare in un attimo, ma iscrivetevi al nostro canale e metteremo tutte le sfide interessanti. Dobbiamo visitare tre posizioni ben precise nel minor tempo possibile. Aprendo la mappa, gli unici tre più vicini sono questi tre che vedete adesso, perché comprendono esattamente tutte e tre le posizioni che ci interessano. Io sono partito da quell'isola lì, quella più a est dei tre, perché? Perché c'è il rift e ci possiamo muovere molto più velocemente. Tutto quello che dobbiamo fare è atterrare, nel momento in cui è atterrato in alto a sinistra vi apparirà la piccola leggenda che vi indica che il primo dei tre posti è stato visto. Senza bisogno di prendere altro, qua sono semplicemente uscito, andiamo qua dietro che c'è il rift, così ci muoviamo verso il secondo, che è il metodo più veloce per fare questa sfida. Il secondo posto è la statua, perché è la statua? Perché è sulla strada e c'è anche lì la corrente ascensionale che ci aiuterà a muoverci velocemente verso il terzo posto. Tutto quello che dovete fare è avvicinarvi, atterrare e guardate non serve neanche atterrare, ci ha già dato la seconda indicazione. A questo punto costruite una piccola rampa per andare su in direzione della statua, andate proprio verso la statua dove vedete la corrente ascensionale, così vi buttate dentro e aprite il vostro paracadute. In un attimo vi trovate sulla testa della statua e andiamo verso il santuario che è l'ultimo posto che rimane. In questo caso avete già finito la sfida, avete visto che è già apparsa, probabilmente il santuario è un raggio d'azione veramente ampio e avete sbloccato la skin che ci interessava. Bene, per questa sfida è finita, ci abbiamo messo veramente poco in un modo veramente semplice. È tutto, alla prossima! Grazie a tutti!